C'è ancora un tema legato alle risorse, sia per il Comune che per la NM, come intenderà muoversi? Saranno garantite, assolutamente, quelle somme che provvisoriamente sono mancate in bilancio per far quadrare i conti sono e verranno, come ho detto, all'azienda recuperate immediatamente, quindi non ci sta nessun problema di natura di cassa e non ci sarà nessun problema di bilancio e finanziario, noi abbiamo buttato il sangue per salvare questa azienda adesso che ci siamo rinforzati perché i servizi stanno riprendendo dovrà correre ancora di più ovviamente la città si aspetta risultati sempre maggiori ma per questo ci lavoreremo